Hola, io sono Marcus Grombe, signore e signori benvenuti alla nuova puntata della Space Astronomy Nella ultima puntata abbiamo fatto finalmente i Tesseract E vi ho fatto vedere questo bellissimo magazzino Adesso speriamo che non ci siano dei creeper dentro, aiuto mamma Aio, dove abbiamo messo i Tesseract che adesso li ho suddivisi Qui c'ho il blocco di Steam A e il blocco di Steam B E quindi questi Tesseract forniscono, vieni qua, energia in due maniere differenti Ho fatto tante Resonant Cell per backupare le cose Volevo fare quella della Mecanize, ma non mi convincono E oggi ero tutto intenzionato, do picchiatevi vi prego Ad andare nell'ospizio, però ho notato che questa qui ancora non si è sbloccata Come mais Forse non si è sbloccata perché non abbiamo fatto dei macchinari importanti E quindi bibiribibi, ma di solito queste qui si sbloccano quando sblocchiamo le quest Allora ho sbloccato la Power Armor, eccola qua Ho sbloccato le carote, ah tra l'altro non mi ricordo ma Se ve l'ho fatto vedere ma c'era un mini villaggio qui Dove ho preso Smeraldi e tutte cose Eccole qua, questo qui Perché non mi ricordo tipo Un ragazzo diceva non c'hai le carote? Io dicevo sì ce le ho Però non mi ricordavo dove fossero Torniamo alla Fabricots Eccoci qua E quindi signori e signori l'unica altra quest che secondo me potrebbe sbloccarci exploring the universe È questa Ed è andare nell'end e probabilmente poi uccidere l'ender dragon Guardate che ci dà, io questa qui non la userò perché è estremamente cittoso Io ne compenso però visto che mi serviva un'arma a distanza mi sono fatto il power first Ora, first credo, first Il mio inglese fa acqua da tutte le parti Questa qui è la power armor Non abbiamo gli upgrader che ci vuole un bucio di culo incredibile per craftarli Io ho fatto soltanto questo Ci ho messo il plasma cannon e la batteria minuscola 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 Quindi se noi andiamo a tenere premuto il tasto destro Anzi no, ve lo faccio fuori casa per cazzo che ti fa esplode tutto Un mob Un mob Un mob Non ce ne sono Vabbè, sì, eccolo là Bella mucca, vieni qui Mucca Siete pronti? Tasto destro, otto danni Teniamo premuto Kamehameha Esplode Esplode completamente Quindi questa qui è la nostra arma a distanza Che però portacci sua consuma un cifrone incredibile Ed è per questo che mi sono upgradato anche il reinforced jetpack a Pupupupup questo, che cazzo è? Electrum E il Reston Flux Capacitator a Electrum Andiamo a caricare entrambi e mentre si caricano Oppela Andiamo a fare le underperline Per andare No Ehi so che andare Per andare nel Nooo Sono poche effettivamente queste Sono molto 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 peche Fortunatamente di Blades Road ne abbiamo tantissime Io non ho ancora capito come fa un cristiano in vanilla Ad avere così tante Blades Road Più che altro ad avere così tante underperl Per raggiungere lo scopo Ma va bene Non vi preoccupate Noi non siamo in vanilla e questo è bello 28 underperl Ace of Ender 40 Ce la dovremmo fare Quasi quasi io lascio Questo qui Perché ho paura di morire Non so se muoio però c'ho comunque paura di morire Prendiamo da mangiare Coc 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 No Coc No Coc subito Shifty si gira Ha sentito Coc No dai sto scherzando Sto scherzando Sto scherzando Come si chiama Meat No Coc Vabbè Piamo questo Il popcorn Oddio potremmo fare delle mele d'oro Facciamo delle mele d'oro ragazzi Non lo so Non lo so Golden Golden ce l'ho tanto Golden Apple Apple Uh aspetta Questo qui che era Che era che era che era che era Open block Non me lo ricordo Non me lo ricordo Cos'era quel suono Arguto Vabbè Facciamo così Facciamo così Vediamo un po' Mi sa che era quello lì che ci interessa a noi eh Golden ice Boh Ho un po' paura Ho paura di tutto quello che potrebbe succedere Perché mi ricordo che c'era un oggetto dell'open block Che faceva esplodere tutto Ok non è questo Va bene Paura Intanto facciamoci delle mele d'oro E andiamo a cercare il nostro Ender Dragon Che speriamo di non dover uccidere Non c'è la Dragonic Evolution in questo pack Sono sorry 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 Piove Governo ladro La direzione è quella Volteggiamo Volteggiamo Eeeh Pad pin Si parte Uh casa nostra Vecchia Ve la ricordazze Nevica Ecco perché me ne sono andato Ed eccoci qua Ma poi mi sono andato a vedere come funziona questa qui E si carica ad Ender Pearl E non a Eise of Ender Ma fa niente perché l'abbiamo trovata Sprecandone soltanto Diegi Uh salve Come va Come va Sono fortissimo Minua � Kateca Pim Sei morto Allora 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 Facciamo così Chi è che mi spara Bi 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 Nel buio si nascondono creature viffime Ma noi siamo fortissimi Muori Maledetto Vediamo un po' Ancora più in basso D'accordo La si scende signore Ho sentito un rumore sospetto Eccoli Amaledetti Amaledettissimi Schifosi proprio Dove sono? Dove? Ok abbiamo trovato la Stroggold Speriamo che non sia buggato come la merda Come al solito Che è una cosa insopportabile ragazzi Vediamo di qua Vediamo di qua No Ma la fate finita Ma morite Morite Sciocchi Ok Ok No non ho ripreso il coso No sono un coglione Ragazzi non ho ripreso il coso Ok non usiamolo per ora Scendiamo giù Tu 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 Eccolo Abbiamo tornato il portale del drago Portacci vostras Quanto cagate il casicos Olè Mi ha rotto Ma Ma sei un figlio in drocchia eh Ok Allora possiamo mettere questi qui Hop 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 E hop Abbiamo il portale del drago Vogliamo tornare a casetta Sì Questa è la risposta giusta Facciamo che questa stronghold Non è più la stronghold Ma facciamo così E mandiamo And The hand Dove è casetta nuova Boom Casetta nuova Eccoci Dunque 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 Posiamo tutte queste merdacchiosissime cose Carichiamo la manina Non se la scordavo per favore Hop 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 Perfetto Manina carica Yes Zio resina Zio ronde Zio caldi Mangiamo una pettuccina qua Oddio che buona Le pettuccine Cibo Ok Si va nel land Speriamo di non morire Non morire ti prego Non morire Non morire Non morire Oh Si è teletrasportato con me anche Il coso Il tizio Ok vediamo siamo nel land Andiamo a dare un'occhiata Ah Endstone Enderlily 10 E Ok Va benissimo Perché vado così lento? Non lo so Va bene Intanto c'è il draghetto Sta per arrivare Io ho molta paura Mi sa che è già arrivato Quindi usciamo via Voliamo via Ehi la Come la va? Come l'andate? Signor draghetto come sta? Tutto Dov'è? Ah eccolo Salve Come sta? Boom Ragazzi Una facilità incredibile Guarda 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 Batte levi Gli sparo dappertutto Allora prendiamo L'endrally di seed Che tra l'altro sono buone Ci risparmiano Una mob farm Non capisco Perché vada così lento io Ma che cosa vuole? Ma se ne vada Per favore Drago Davvero Non è in grado Non è in grado Di fronteggiare il signor Marco Scron Qui c'è un po' di Ah ma la kid è la Mimicry And the Mimicry Stiamo a 4 Ne voleva 10 Che cappello hai? No è brutto Non mi piace Il draghetto Vieni qui Draghetto Draghetto Vieni qui Che te sparo la pallozza in faccia Vieni Vieni Boom Ah coglionazzo Si va tutti in montagna Tru la la Si va tutti Dal drago Si va tutti Dal drago Si va tu Drago Bombardato Tru la la Si minano l'endrally di seed E il drago non mi fa un cazzo Era un rutto quello? No Ah ok Ho sentito un brrr Era una risata sommessa Eccola Sembra il caffè Signori Già possiamo claimare tutto Full of earth Allora io questo qui lo prendo Però non lo utilizzerò Ok Anche se volare Effettivamente è bellissimissimissimissim E vediamo se Firalbet ce l'ha sbloccata No Mandaggia ai pesciolini Gialli rossi e verdi Il drago lo lasciamo Da che c'è lo lascia fa? Diemenamo Ah bello Questa non si spegne No Vieni qui Palla di fuoco No Vieni Vieni che sto a caricare Vieni Chicco Vience Guarda lo sai Lo sai che prende gli schiaffoni Schifoso però Si rigenera quindi Si rigenera Senti gli aerei Fino a quando questi qui sono accesi Vabbè li spengo Facciamo così Oh no finito Ah no Così spegniamo Oppela Oppela Ma drago Mi lasci lavorare Per favore Scusa Oppela Chissà se ci arrivano A prenderli laggiù Mori maledetto Mori 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 No sta scappando Bastardo Mi manca pochissimo Mori Mori male Mori male Vai Vai Dai Ti raggiungo Ti raggiungo No come Perché 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 L'overworld No Mi ha messo L'overworld Overworld Ah ma perché C'ho la cosa Mori Schifo Merda Si Si È morto Mazza quanto C'ho messo Perché Sono fighi Questi Però sono lente E lui va più veloce Uh sì Esperienza Esperienza Sì Sì Che vuoi Levate Levate Andate via Andate via Fatemi prendere l'esperienza Oh yeah 50 Uh Che bello Ok Scusate Ho visto un cappello bello Uh testa di cappello Effettivamente qui Con questa spada Enderena Le faccio Tantissimissime Pochissimi Secondissimissimissimissimissimissimissimissimissimissim Oh mori Mori E mori E mori Vabbè Signori Quassù c'è Il no Uh No 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 Fermo 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 Amico mio Vieni qua Vieni qua Non ci riuscirò mai a prenderlo Spazio troppo aperto Sì l'ho preso Uhuh E abbiamo l'ectoplasma Ottimo lavoro Abbiamo battuto il drago Ma nonostante ciò Uh che cos'è? Epic Shard Grabber cosa? ah è un colore della Immersive, ma è vero ma c'è l'Immersive qui, ma che cazzo c'è stato, non c'è stato da pensare, ed è finito Minecraft no non è vero, una volta tanto tempo fa feci finta che fosse finito Minecraft davvero e la serie finiva là già te l'hai impazzita poi la puntata dopo non era così allora, ragazzotti io che vi devo dire, io speravo di sbloccare questa, non si sblocca quindi probabilmente si sblocca soltanto quando facciamo qualcosa di particolare ad esempio podarsi, dico podarsi che si uh, ma accidenti ah no il TR1 è già sbloccato dico podarsi che forse si sblocca facendo la NASA Workbench, che è la mia ultima possibilità altrimenti andremo avanti senza quest cioè le quest sono una cosa carina, ti danno un filo logico, vediamo un po' se troviamo qualcosa di interessante abbiamo compressed steel e advanced waffle che dovrebbero stare, io ho messo tutto qui pronto per la puntata advanced waffle e compressed steel perfetto qui ce ne stanno altrettanti signore e signori, incrociamo le dita ma comunque questa la dovevamo fare NASA Workbench la mettiamo in mezzo al Cassiopea tipo qui badabim no, un pochino si è ribellata ciccia ah c'è questa eccola qua e adesso con questa potremmo fare il nostro razzo speriamo che ci si sia sblocca no non ci si sblocca o se sapete come si sblocca diteci velo e altrimenti io andrò avanti nella prossima puntata finalmente facciamo il razzo e ce ne andiamo sulla luna bella regà grazie 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 grazie